Bentornati al Bene Comune Dossier. Questa sera parliamo di etica e politica. Una questione davvero decisiva perché politica senza etica non porta da nessuna parte o meglio purtroppo porta molto rapidamente verso quegli atteggiamenti e quei comportamenti corruttivi cui ci tocca assistere ogni giorno e in maniera sempre più massiccia. Ma qual è la ragione? Piero Bassetti, l'indimenticato presidente della regione Lombardia delle Origini, dice che a suo giudizio è in atto una vera e propria mutazione antropologica. Lo avete sentito nell'inchiesta curata per noi da Dario Murri. Una mutazione antropologica consistente nel fatto che troppi anni continui che si sono susseguiti di cattivi comportamenti, di pessime pratiche, di condotti inaccettabili hanno davvero scavato un po' come la goccia nell'alvio e nel solco della testa degli italiani, che si sono adeguati a questi comportamenti, che ammirano addirittura il corruttore, che pensano lui ce l'ha fatta anche se lo ha fatto al prezzo di scorciatoi inaccettabili e per un altro verso ha invece allontanato dalla politica, quella politica che è indispensabile per il bene comune e per le comunità dei cittadini, senza la quale, naturalmente la politica seria, onesta e corretta, non si va da nessuna parte e si produce quel caos in cui purtroppo stiamo sprofondando ogni giorno di più. Allora, dice Bassetti, cosa si può fare per cercare di contrastare la mutazione antropologica? Una cosa molto complessa e molto difficile perché ha accompagnato nel corso di questi ultimi decenni il nostro paese e si sa, cambiare e mutare una mentalità è molto difficile, ma non tutto è perduto. I nostri autorevoli interlocutori ci suggeriscono nella terza parte dell'inchiesta di Dario Murri alcune possibili vie di uscita, senza eccessivo ottimismo ma neanche senza troppo pessimismo. Lo vediamo tra pochissimo. Scandali e inchieste su sprechi e corruzione stanno interessando negli ultimi tempi i principali enti territoriali del nostro paese come regioni e province, evocando lo spettro di una nuova tangentopoli. Abbiamo cercato di individuarne le possibili cause a vari livelli, ma esiste un modo per porre fine o quantomeno per arginare questo degrado. Il degrado si argina, si può cominciare a bloccare il degrado senza avere visioni miracolistiche, mettendo alla prova personale, politico, amministrativo a livelli locali che non viva di politica ma viva per la politica. Allora, cioè che in qualche modo si carichi della responsabilità e si metta alla prova in un compito che comunque è fondamentale in qualsiasi società democratica almeno decente. Io credo che qualcosa si possa mettere in moto, perché in generale nei periodi e nelle fasi di crisi più acuta noi vediamo solo le traversie, ma lì si annidano in generale per lo più le opportunità. Se da un lato dunque il recupero di etica e senso di responsabilità è certamente auspicabile, dall'altro c'è chi teme che questo possa non bastare. Nel breve termine, secondo me la magistratura è il referente migliore. L'ha già fatto nell'83, perché la denuncia affidata alla magistratura determina dei sussulti che possono essere positivi. Cioè, ho portato un scandale veniente, è una grandissima, voglio dire, ha fatto di più per la lotta contro l'andrangheta, zambetta, che tutti noi messi insieme, dando scandalo. Però bisogna che quando c'è lo scandalo arrivi subito la condanna. E questo non può farlo che la magistratura. Ma non la Corte dei Conti, che è un altro discorso, non i controlli preventivi. Nel 2001 la riforma del titolo quinto della Costituzione ha sancito l'avvio del federalismo con il decentramento di scelte e spese agli enti locali, ma ha portato a un aumento dei costi di quasi 90 miliardi in 11 anni. Qualcosa dunque nella sua attuazione non ha funzionato. Con queste cifre e nonostante il drastico intervento di contenimento fatto dal governo, ora c'è chi vorrebbe, se non addirittura abolire le regioni, ridurle della metà o accorparle in tre macro aree. Potrebbe essere una soluzione? Io credo che il dire facciamo delle macro aree oppure semplifichiamo questa stratificazione amministrativa, credo che sia a medio termine un obiettivo da raggiungere. Ma la cosa importante è mutare i comportamenti all'interno delle strutture esistenti. Perché questa allegra finanza dei consigli regionali era ed è purtroppo un sistema comune, condiviso, con un senso di omertà da parte di tutti i gruppi consigliari. Innanzitutto col titolo V noi abbiamo peggiorato il federalismo della nostra Costituzione, perché la Costituzione dei padri costituenti assegnava alle regioni un tipo di ruolo decentrato e di autonomia, che era molto più consono all'essenza del federalismo, che non è l'esercizio di più potere. In realtà dovremmo parlare di autonomie. Allora, se io autonomizzo una parte dei poteri è chiaro che trasferisco spesa. Quindi non potrò mai giudicare se costa di più o di meno un decentramento in base al fatto se spende di più o di meno. Il problema sarebbe se spende di più in relazione agli stessi servizi non funziona. Ma se spende di più in relazione a più servizi può anche essere che spendere di più è il modo di fare economia. Prendiamo il caso della sanità in Lombardia. Se la sanità in Lombardia fosse in mano un ministero ci costerebbe almeno il 50% di più. Su questo io non ho il minimo dubbio. Per questo io continuo a difendere la validità di una parte dell'esperienza della regione Lombarda, ma si potrebbe dire lo stesso dell'Emilia Romagna. Lo stesso si deve dire dei sindaci, ma ci sono centinaia di sindaci che esercitano dieci volte meglio dello Stato che pretende di fare il padre eterno in relazione all'efficienza, le risorse dello Stato. Cambiare il contenitore insomma, anche se poi il problema è quello che c'è dentro e chi lo decide. A questo punto si potrebbe porre la questione dell'allevatura morale del politico e dei politici. Per uscire dal pantano non basterebbe formare meglio le classi dirigenti del futuro o si deve fare di più? Intanto rispetto alla prima repubblica che aveva tanti difetti ma aveva anche qualche pregio, all'epoca i partiti, i partiti elezionali selezionavano meglio le persone. Ecco, insomma, non avremmo visto nessuno dei signori, io non li cito nemmeno per non far loro pubblicità perché ne hanno avuta troppa, nessuno dei signori abbiamo visto qualcosa persino di peggio, ma insomma comunque il meccanismo di selezione era un meccanismo più oliato. Oggi invece c'è una cooptazione per appartenenza, per fedeltà più che per lealtà, per condivisione di progetti di natura privata che non hanno a che vedere con le istituzioni. Le istituzioni sono state occupate spesse volte con l'idea che le istituzioni siano la proiezione di quella parte sociale che invece è chiamata per responsabilità non a occupare le istituzioni ma a preservarle per passarle ad altre, intatte. C'è stata una lunga fase in cui i partiti erano agenti di pedagogia, cioè formavano, educavano alla politica. Vi era un cursus honorum, c'era un curriculum diciamo, per chi si dedicava, dedicava la propria vita all'azione e al ruolo e alla professione politica. È un'educazione alla cittadinanza democratica. Il disegno di legge anticorruzione su cui il governo ha ottenuto la fiducia al Senato introduce fra l'altro come reati il traffico di influenze e la corruzione fra privati, lasciando in sospeso le questioni del falso in bilancio depenalizzato nel 2002, il reato di autoriciclaggio invocato da Unione Europea e Banca d'Italia e quello di voto di scambio. A questo si dovrebbe aggiungere l'istituzione di un commissario anticorruzione. Basterà questo affare da deterrente contro sprechi e corruzione? Follia pura, perché se lei legge quella legge lì, lo capisce anche un profano, hanno adottato i criteri che nelle imprese si adottano per la sicurezza, cioè in ogni centro di operatività il responsabile dell'anticorruzione. E questo perché? Perché chi fa quelle leggi lì? È nel gioco della corruzione. Questo è la componente criminogena del nostro Stato centrale e del centralismo. Lei lo vede nel modo come riscuotono le tasse, nel modo come controllano la sua privacy, eccetera, eccetera. Cioè qui, voglio dire, qui il riscatto morale della società italiana passa dalle istituzioni, ma questo, voglio dire, lo sanno anche i bambini in politica, perché se no la politica cosa serve? Se la politica deve servire a peggiorare la società, è chiaro che allora viva l'autoritarismo. Cioè il rischio poi è anche quello di ledere il concetto della democrazia. Condivisa o no, migliorabile o no, la legge rappresenta comunque un segnale di cambiamento. Un cambiamento avviato, si spera, dalle istituzioni e di cui le componenti più sane della nostra società sentono forte il bisogno. Quello che è necessario è uno scatto d'orgoglio, una sorta, diciamo, di risorcimento civile, nel quale tutti ci rendiamo conto di avere una piccola parte in una nuova fase di recupero di un sentimento civico. pensando soprattutto che la politica non è qualcosa di avulso dalla realtà di tutti i giorni, la politica è necessaria, abbiamo bisogno di impegnarci un po' tutti, ma non necessariamente candidandosi, ma partecipando, esprimendo la nostra opinione, a favore o contro. Io credo che, insomma, specialmente nei livelli locali, il fatto che ci siano giovani che si impegnano, che si mettono in gioco, che riscoprono un po' di passione civile, sia un segno di grande speranza. Credo che un po' tutti dovrebbero sentire la responsabilità in questo caso. Non c'è una sola soluzione. Sono tante soluzioni che possono, in qualche modo, concorrere a una ripresa di dignità e di fiducia nella politica e per la politica e alla possibilità di dire, ok, viviamo in un paese decente. Questo, prima o poi, dovremmo poterlo dire. È davvero complesso cercare di fuoriuscire da questa situazione. È davvero complicato cercare di ricostruire un rapporto, una relazione virtuosa e non pericolosa, tra l'etica e la politica. Però, lo abbiamo appena sentito, non è impossibile. Occorre il ripartire, occorre il decollo nuovamente di quello che De Bortoli ha chiamato il risorgimento civile, che non è fatto, naturalmente, solo ed esclusivamente di indignazione che ci deve essere, ma che se rimane fine a se stessa non porta da nessuna parte, se non a maturare una sorta di sordo, continuo, instancabile rancore nei confronti di chi ci rigoverna. Ci deve essere l'indignazione, ma ci deve essere anche tanta volontà propositiva. Ci devono essere comportamenti nuovi e ci deve essere, da parte della classe dirigente, perché necessariamente in una società complessa esistono delle classi e delle elite dirigenti, un'attenzione autentica nei confronti di un disegno complessivo per il Paese e per la popolazione, un'attenzione verso quello che abbiamo voluto chiamare il bene comune, come la nostra trasmissione. E per farlo c'è bisogno di tanti strumenti, di una pluralità, di una molteplicità di arnesi e utensili, chiamiamoli così. Occorre sicuramente una legge, una legge anticorruzione severa, una legge che dia sinceramente e seriamente la speranza a chi si comporta onestamente e che colpisca duramente, come avviene in tutti gli altri Paesi, in tutte le democrazie mature dagli Stati Uniti alla Germania, che colpisca duramente con delle sanzioni chi si comporta male, chi fuoriesce dai limiti della legge, chi ne approfitta e soprattutto chi si appropria del denaro pubblico. La sanzione certa nei tempi e con le applicazioni rapide è esattamente quello che contraddistingue i sistemi giudiziari degli altri Paesi ed è naturalmente un deterrente molto forte a comportamenti corruttivi negli altri Paesi. Ma occorre anche una trasformazione della mentalità, di quella mentalità a cui noi italiani purtroppo nel tempo ci siamo un po' troppo facilmente adeguati. E occorrono degli esempi, dei buoni esempi. Occorre un po' di pedagogia, una cosa piuttosto cara a noi del bene comune. Occorre quella pedagogia che in altri tempi, quando i politici erano più seri di quelli attuali, veniva svolta dalla stessa politica. Veniva svolta dagli stessi partiti che si preoccupavano, c'erano naturalmente delle mele marce anche nei tempi passati, ma si preoccupavano di effettuare una selezione seria del personale politico. È un po' come all'interno delle aziende. In un'azienda occorre che ci sia il personale, che ci siano i collaboratori, che ci siano le risorse umane più capaci, più efficienti, più brave. Non succede sempre così, ma è nell'interesse dell'imprenditore selezionare al meglio i propri collaboratori. E allora perché non dovrebbe essere così per chi ci governa? Perché non dovrebbe essere così per il personale politico, che a tempo e non facendone tutta l'occupazione dell'esistenza, deve svolgere dei ruoli importanti, dei ruoli dirigenziali nei nostri confronti. E occorre naturalmente anche una tensione morale. Noi pensiamo che chi vuole fare politica abbia una naturale, una assolutamente comprensibile, umana, legittima ambizione, ma che questa ambizione debba essere messa al servizio del bene comune, dell'interesse collettivo. Debba essere messa al servizio della popolazione, del paese, della nazione, della propria comunità. E proprio per questo speriamo che il ridisegno delle autonomie locali e la semplificazione possa far cadere un po' di arrivisti e di rampanti e possa ripristinare un rapporto più stretto tra i cittadini e chi li governa direttamente dai livelli territoriali immediatamente successivi. Naturalmente non si tratta di una ricetta pronto contro termine, non si tratta di un processo immediato, si tratta di un processo molto lungo, ma come tutti i processi complessi va iniziato. Le tappe devono essere scandite, devono essere individuate con chiarezza e soprattutto tutto deve essere messo in movimento e deve poter contare sulla collaborazione di tutti quanti. Quindi accanto all'indignazione che giustamente proviamo, dobbiamo un po' pensare a quello che possiamo fare. Come diceva un grande presidente statunitense, JFK, John Fitzgerald Kennedy, non domandarti quello che il tuo paese può fare per te, ma chiediti e agisci di conseguenza per quanto puoi fare per il tuo paese. Anche noi, nelle nostre esistenze private, nelle nostre vite professionali, nella vita familiare e nella vita comunitaria di ogni giorno, dobbiamo tenerlo presente. Buon proseguimento con i programmi di Studio 1 e arrivederci a lunedì prossimo per una nuova puntata del Bene Comune d'Ossie. Buon proseguimento con i programmi di Studio 1 buon proseguimento con i programmi di Studio 1